ben ritrovati siamo al parco canile empa di monza siamo in compagnia di stefania e del piccolo ford esatto lui non ha bisogno di presentazioni diciamo perché è davvero un cucciolo bellissimo bellissimo davvero bello e bravo anche dai diciamo esatto è appena arrivato da noi con gli altri fratelli della sua stessa cucciolata anche se lui è quello un po più particolare perché ha il pelo più lungo lungo infatti anche se appunto è di mamma bigole di papà pastore probabilmente somiglia quasi a un piccolo golden esatto un pelo molto morbido sì e poi ha la particolarità rispetto agli altri fratelli che hanno gli occhi più chiari di averli in color nocciola esatto parliamo un po della razza delle dimensioni che avrà questo cagnolino allora noi pensiamo che allora lui in realtà è quello con gli zamponi un po più grandi quindi forse sarà un po più grandicello rispetto agli altri fratelli parliamo comunque di una taglia media quindi intorno ai 20 kg insomma qual è il carattere di ford allora è molto docile nei confronti delle persone sta imparando a conoscere anche gradualmente gli altri cani perché probabilmente non aveva mai avuto a che fare con altri cani adulti quindi un pochino per volta sta imparando a conoscerli è socievole anche nei confronti dei gatti insomma è un po timoroso però assolutamente non si è dimostrato predatorio e li stiamo facendo conoscere nel migliore dei modi è un cucciolo quindi con i bambini può andare d'accordo allora assolutamente sì ovviamente le famiglie che dovessero avere bimbi e portarsi a casa un cagnolino come lui devono spiegare per bene poi i bimbi che il cuccio lo mangia va lasciato tranquillo mangiare dorme e in questa età comunque dormono davvero tante ore al giorno e va lasciato tranquillo insomma sta seguendo un percorso di educazione e sa andare bene alla pettorina allora probabilmente la pettorina in realtà non la conosceva prima di arrivare qui da noi quindi adesso stiamo facendogli fare più passeggiate possibile sia dentro che fuori al canile per abituarlo nel migliore dei modi ma è molto bravo qual è la famiglia ideale per lui anche una prima esperienza perché no seguendo i nostri consigli perché sappiamo bene che l'arrivo del cucciolo in famiglia ti cambia la vita è un impegno esatto in tante cose ovviamente positive però ci sono anche tante responsabilità che poi si si hanno avendo avendo un cane in famiglia insomma bene speriamo davvero che ford trovi presto una nuova famiglia che lo accolga per adottare o avere ulteriori informazioni contattare il canile di monza al numero 039 835 623 oppure mandare un'email a canile chiocciola enpamonza punto it non 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 Grazie.